Buone e buone feste per tutti voi di Radio Campania, un abbraccio fortissimo e buon Natale a tutti i miei fan. Mi raccomando seguite sempre questa radio che pubblicizza la buona musica napoletana e soprattutto ascoltate sempre e richiedete la mia musica. Mi raccomando sintonizzatevi su www.radiocampania.com. Un abbraccio e un bacio da parte di Dara Innamo. Buon Natale!